Buonasera signora Antonella, Antonella Marea, famosissima Morea, importante protagonista per questa sera notte della D'Amburra. Siamo qua ma abbiamo anche un altro impegno, è vero maestra? Aiuta a Montevergine, noi facciamo tutto per denuncio. Mentre invece del festival di questa sera, di questa serata dedicata alla D'Amburra, io canterò il mio must che è Stella Diana, poi devoto a te che è un pezzo che ha scritto Carlo Fennel del mio e poi c'è una sorpresa. Non la diciamo perché penso che la manderete in un'ora. Sicuramente. Non la diciamo, è una sorpresa, molto bella. Molto probabilmente è relegata in fondo ed è una jam station con tutti quanti? No, è un piccolo omaggio che facciamo io, Carlo e Max Fuglia. Benissimo, ti ringrazio, il pubblico sta fremendo dietro, lo vediamo con attenzione, auguri, bocca al lupo.